Inaugurato sabato mattina ad Agropoli un posto unico dove poter trascorrere momenti spensierati con la famiglia e gli amici e l'area sosta è picnic caletta blu nell'ambito dell'oasi naturalistica Trentova-Tresino. Mai come fu più azzeccato per questo paradiso tra natura e mare a pochi passi dal centro urbano. Immaginate di stare all'ombra degli alberi guardando un panorama stupendo con il cinguettio degli uccelli e il verso delle ciclale sullo sfondo. Il relax è assicurato. Siamo nell'area di sosta calette blu del percorso Trentova-Tresino, un percorso trekking meraviglioso. Sembra veramente di essere in paradiso. Pochi chilometri dal centro ma siamo proprio in un altro mondo. È stata attrezzata questa splendida area di picnic dove è possibile venire con le famiglie a godere questo splendido panorama, questa splendida area pulita e poi fermarsi con loro per utilizzare la braceria che è stata messa a disposizione al fine di passare anche una giornata al completo, cioè passeggiando, mangiando magari degli arrusti sui carboni e vivendo quindi un'esperienza splendida in un percorso ripeto, veramente paradisiaco. Oggi abbiamo inaugurato quest'area sosta trekking calette blu. Come potete vedere dalle immagini verde mare. Uno spettacolo meraviglioso dove ci si può immergere non solo nella natura da un punto di vista presaggistico, ma anche dalla bellezza del mare. Qui si ascoltano le onde del mare e abbiamo questa zona verde dove si può venire in libertà, in tranquillità, in serenità, anche con due, abbiamo dato disposizione di chi potrà utilizzare quest'area anche per poter arrustire tranquillamente la carne o qualsiasi cosa si voglia portare. È un ambiente sereno, tranquillo, per famiglie, per coppie, per amici. È immerso completamente in questa zona che è la zona Tresino Trentova. Quindi penso e vi invito tutti a venirla a visitare e a trascorrere una piacevole giornata con amici, fidanzati, mariti, famiglie. Perché è veramente uno spettacolo, come potete vedere dalle immagini, veramente è una cosa spettacolare, bellissima, che sicuramente verrà ampliata ulteriormente. Adesso è soltanto un inizio, una piccola parte che è già in via di progressione, per cui sarà una zona molto più bassa a disposizione di tutti. È con immensa gioia che finalmente oggi abbiamo inaugurato questo area picnic calette blu in messa, che fa parte del conversore dell'Ose Nerovistica Trentova Tresina, di cui il comune è proprietario ormai da qualche anno. Fortunatamente quest'anno siamo riusciti ad avviare un'attività di valorizzazione di quest'area che porterà, che si è inaugurata oggi con l'apertura di questa Oasi Picnic, ma che già dalla prossima settimana si inaugurerà un'area, tutta l'area Oasi Tendino, che ospiterà una serie di attività, di attrazioni destinate a grandi e piccini, perché abbiamo previsto l'implementazione di attività equestri, di attività di tiro con l'arco, di attività di noleggio bici e noi ci auguriamo che poi con il proseguo degli anni possiamo implementare queste attività e far sì che Agropoli sempre più, già è città dello sport, ma sempre più diventa la città dello sport, città della natura da vivere a 360 gradi e da vivere tutto l'anno. Siamo immersi in una zona spettacolare, bellissima, in media da tutto il mondo. L'Oasi Tendinova-Tresino ha un'area di piste destinata a trekking di circa 10 km, ha varie calette di cui questa è una delle tante e che possiamo dire che Agropoli o al mare lo può offrire oltre che con le spiagge, lo può offrire con queste bellezze, può offrire quindi, può mettere a disposizione dei turisti una decina di chilometri di spiagge, di riva dove si possono ammirare queste bellezze e approfittare e farsi un bagno in delle acque cristalline e splendide. Grazie.